L'autunno è un periodo magico per gli appassionati di giardinaggio. Spesso si pensa che la stagione della coltivazione sia giunta al termine, ma in realtà è un momento ideale per piantare una varietà di ortaggi e erbe aromatiche che prosperano nelle temperature più fresche. Coltivare in autunno offre numerosi vantaggi, le temperature più fresche riducono la proliferazione di parassiti e malattie, rendendo la cura delle piante meno impegnativa. Inoltre, i raccolti autunnali tendono a crescere più lentamente, permettendoti di goderti il processo di giardinaggio senza fretta. Non dimentichiamo la varietà di ortaggi che puoi piantare, dalle verdure a foglie ai tuberi, le opzioni sono molte. Prima di iniziare a piantare, controlla la data media della prima gelata nella tua zona. Questo ti aiuterà a pianificare quando iniziare a seminare. Assicurati di preparare il terreno, apportando eventuali modifiche necessarie per ottimizzare le condizioni di crescita. Un buon terreno è fondamentale per un orto prospero. Le verdure a foglia come cavolo riccio, spinaci e lattuga sono tra le più facili da coltivare in autunno. Queste piante amano il clima fresco e possono resistere anche a leggere gelate. Pianta i semi circa otto settimane prima della prima gelata e potrai gustare insalate fresche in pochissimo tempo. I carote, barbabietole e rapa sono perfetti per l'orto autunnale. Possono essere seminati circa dieci settimane prima della gelata e continueranno a crescere anche quando le temperature si abbassano. Questi ortaggi non solo sono deliziosi, ma sono anche facili da raccogliere. Non dimenticare le erbe. Coriandolo, aneto e prezzemolo prosperano nel clima fresco e possono essere raccolti continuamente durante i mesi autunnali. Aggiungeranno sapore ai tuoi piatti e sono facili da coltivare. I cavoletti di Bruxelles e i broccoli sono altrettanto ideali per l'autunno. Questi ortaggi preferiscono il clima fresco e possono essere piantati circa dodici settimane prima della prima gelata. Assicurati di fornire loro spazio sufficiente e supporto mentre crescono. La chiave per un orto autunnale di successo è il tempismo. Pianta le tue colture a stagione fresca circa otto-dieci settimane prima della prima gelata, a seconda della varietà e della tua posizione. Considera anche le condizioni specifiche di crescita di ciascun ortaggio. Alcune piante, come lattuga e spinaci, preferiscono l'ombra parziale e un'umidità costante, mentre altre, come carote e barbabietole, richiedono pieno sole e terreno ben drenato. Coltivare in autunno non solo ti offre la possibilità di prolungare la stagione di giardinaggio, ma ti permette anche di godere di un raccolto ricco e variegato. Scegli le giuste colture, prepara il tuo terreno e goditi il processo di giardinaggio mentre le stagioni cambiano. Ricorda, un orto autunnale ben pianificato può portarti a un inizio promettente per la primavera. Se hai trovato utile questa guida, condividi le tue esperienze di semina autunnale nei commenti qui sotto. Buon giardinaggio!